Per risolvere il rebus dobbiamo capire in quale grosso guaio si erano cacciati. Gli investigatori del duplice omicidio di Pordenone sono sempre più convinti che l'esecuzione di Trifone Ragone della fidanzata Teresa Costanza sia opera di una professionista. Qualcuno ha aggiunto che poteva permettersi il lusso di stare nel parcheggio del palazzetto senza correre il rischio che le persone che frequentano la zona ci facesse caso. Sul tavolo degli inquirenti una trentina, quelli che stanno lavorando sul duplice omicidio al comando provinciale dell'arma, i tabulati telefonici delle utenze dei due ragazzi, la ricerca di presunti stalker o di amanti abbandonate. Dai social network potrebbero giungere interessanti informazioni, aveva detto il procuratore. Proprio sui social sta lavorando il team degli esperti informatici. In parallelo, coordinati dalla procura di Pordenone, stanno indagando anche i carabinieri di Milano dove la ragazza viveva prima di raggiungere in Friuli il fidanzato. I tracciati potrebbero anche aiutare a capire se ed eventuale in quale grosso guaio si fossero cacciati per essere giustiziati in maniera così brutale davanti al parcheggio della palestra che frequentavano. Ucciderli davanti a casa sarebbe stato meno rischioso visto che il luogo scelto è sì privo di telecamere ma non di potenziali testimoni. Sotto la lente non c'è solo il mondo dei locali notturni, delle palestre, delle discoteche. C'è anche quello della caserma, qualcuno che possa essere in grado di maneggiare le armi e di averne la disponibilità. Due colleghi di lavoro di Ragone sono stati sentiti subito dopo il duplice omicidio. Altri militari hanno sfilato e continuano a sfilare in caserma. Da loro gli investigatori del reparto crimini violenti di Roma, del ROS di Udine e del reparto investigativo pordenonese continuano a ricevere indicazioni sulla vita anche amorosa di Trifone. Intanto a Cordenons è stata organizzata una fiaccolata in memoria della giovane coppia. Un silenzioso corteo illuminato dalle luci delle candele si è snodato dalla caserma De Carli, dove era a distanza il sotto ufficiale, fino al municipio.